Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove come ho detto dal titolo ecco qui il primo video del 2024 e ovviamente non poteva che essere la guida su come fare milioni su GTA Online per i nuovi giocatori visto che con l'imminente uscita di GTA 6 insomma dobbiamo aspettare un altro anno però comunque ho notato che molta gente sta tornando su GTA Online e visto che l'anno scorso non l'ho fatta ma l'ho fatta due anni fa ho fatto appunto questa guida aggiornata per i nuovi giocatori di GTA Online con tutti quanti i consigli e segreti e i primi business da comprare insomma vedrete tutto quanto in questo video come al solito prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale visto che molti di voi guardano i video senza essere iscritti e come vedete insomma se non lo sapete fatevi un giro sul canale vi porto tutti quanti gli aggiornamenti su GTA Online tutti i dettagli appena esce un nuovo contenuto vi porto subito il video e provare a vincere il veicolo del podio perché è un veicolo gratis per non fare praticamente nulla dovete andare qui nel casino ovviamente e comprare l'abbonamento se non ce l'avete si compra dal sito del casino Diamond andando su internet è veramente semplice costa 500 dollari quindi nulla di che e girare la ruota potete girare la ruota ogni mattina ovviamente ogni ora reale come vedete potete vincere un po' di tutto anche soldi quindi per quello vi consiglio di farlo e se siete abbastanza fortunati potete vincere anche il veicolo del podio come vedete che cambia ogni giovedì c'è anche un glitch per girare la ruota della fortuna in maniera infinita insomma lo trovate sul canale dopodiché invece di perdere tempo a fare attività o cose del genere dovete fare le cacce al tesoro adesso vi farò vedere tutte le cacce al tesoro disponibili in descrizione trovate le guide dettagliate per trovare tutti quanti gli indizi la prima che vi consiglio è quella del revolver a doppiazione è la più semplice dovete trovare degli indizi sparsi per la mappa c'è la guida dettagliata in descrizione altrimenti questo video durerebbe più di mezz'ora comunque come vedete dovete rubare tutti quanti gli indizi poi gli spawnerà questo tizio lo ammazzate e riceverete una nuova pistola che è il revolver a doppiazione uccidendo 50 giocatori o persone a casa su GTA riceverete 200.000 dollari quindi sono 200.000 dollari veramente facili con la caccia al tesoro del revolver a doppiazione la caccia al tesoro che vi consiglio di fare perché è veramente molto semplice è quella dell'accetta di pietra di mod c'è un video molto vecchio che ho fatto su questa accetta ve lo lascio in descrizione dovete insomma portarli degli ostaggi che potete o uccidere o insomma catturare e portarli ovviamente se li riportate vi da 10.000 se li uccidete direttamente vi da 5.000 dollari e insomma una volta che avete completato tutte quante le missioni di mod riceverete questa accetta di pietra la cosa fantastica è che uccidendo anche in questo caso giocatori a caso oppure NPC quindi personaggi a caso andate sulla spiaggia e fate una strage insomma indifferente riceverete ben 250.000 dollari come vedete dopo averne uccisi circa 50 comunque c'è una guida dettagliata in descrizione l'altra caccia al tesoro che vi consiglio di fare è quella degli oggetti di scena di Solomon vi da 100.000 dollari sono 10 oggetti di scena da recuperare e sono 100.000 dollari veramente facili facili quindi trovate il link ovviamente in descrizione per la guida super dettagliata su questa caccia al tesoro come vedete si fanno soldi veramente in maniera veloce altra caccia al tesoro che hanno aggiunto proprio poco fa insomma per il nuovo DLC natalizio che probabilmente rimuoveranno a breve forse insomma non lo so comunque ve la metto è quella dello Yeti perché è veramente molto semplice dovete trovare 5 indizi vi da 10.000 dollari per indizio e trovato il quinto indizio vi spavolerà lo Yeti come vedete lo ammazzate e riceverete altri 50.000 dollari quindi sono 100.000 dollari veramente facili anche in questo caso guida dettagliata su questa caccia al tesoro in descrizione e sono 100.000 dollari in più poi abbiamo la sfida giornaliera del relitto pirata su GTA Online trovate insomma adesso vi faccio vedere una mappa che vi permette di trovare questi relitti ogni giorno su GTA Online vi dice effettivamente la posizione giornaliera vi danno 20-25.000 dollari per ogni cassaforte quindi voi trovate queste cassette le rubate se lo fate per una settimana insomma e ne rubate in totale 7 vi sbloccate anche il completo da pirata però se non vi interessa il completo da pirata comunque è da fare quando abbiate GTA perché appunto vi danno 20-25.000 dollari che non sono mai male come vi dicevo c'è questa mappa interattiva che è veramente utile secondo me per chi gioca a GTA Online ve la lascio in descrizione comunque ce ne stanno diverse online che vi permette di trovare la posizione di tutti quanti le cacce al tesoro del gioco quindi voi mettete questa mappa sul computer sul telefono o sull'iPad o su quello che vi pare accendete la Play o l'Xbox e ricopiate insomma e andate nei punti selezionati per trovare tutte quante le cose come vedete la prima caccia al tesoro che è disponibile solo nel periodo natalizio è quella dei pupazzi di neve i pupazzi di neve in totale se li distruggete tutti vi dà 250.000 dollari quindi andate in queste posizioni e sono soldi veramente facili facili ragazzi per praticamente uccidere e distruggere pupazzi di neve quindi assolutamente da fare la seconda caccia al tesoro che vi consiglio di fare trovate sempre i punti di interesse qui sopra quindi un'altra caccia al tesoro ancora è quella delle carte da gioco quella delle carte da gioco non vi dà i soldi ma vi dà le fish per il casino che sono 66.000 diciamo non è prioritaria come caccia al tesoro però ci può stare tranquillamente dato che potete convertire anche questi soldi anche se diciamo c'è di meglio per esempio quella delle action figure che secondo me è una delle migliori e appunto vi dà 150.000 dollari se recuperate tutte quante le action figure come vedete dal video andate su questa mappa e andate nelle posizioni indicate veramente molto semplice e poi abbiamo quella dei distributori di disturbatori di frequenza questa qui potrebbe essere un attimo rognosa per i nuovi giocatori comunque vi dà 150.000 dollari vi consiglio di farla quando sbloccate un oppressor mk2 con i missili perché sarà veramente veloce poi avete la caccia al tesoro dell'ld organics come vedete dal video veramente facile dovete andare in queste zone e recuperare queste 100 cose e vi dà 150.000 dollari poi altra cosa che sembra un dettaglio ma adesso vi spiegherò tutto trovate anche in questo caso la guida linkata in descrizione è la caccia al tesoro per trovare il metal detector il metal detector è un oggetto che vi permetterà di sfruttare al meglio i colpi a caio perico che insomma ne parleremo a fine video per chi non lo sapesse è uno dei migliori colpi del gioco per fare milioni ed è il primo che dovete iniziare a fare quindi il mio consiglio è quello di trovare il metal detector trovatevi ripeto la guida dettagliata in descrizione su come trovarlo e appunto una volta fatto quando potrete giocare a caio perico come vedete avrete dei punti di interesse con il punto interrogativo voi andate in queste zone e col metal detector potete insomma trovare la cassaforte nascosta ci mettete un attimo perché ovviamente vi vibra il controller e in questo caso vi da 25.000 dollari sono due casse quindi 50.000 dollari e cambiano ogni 24 ore reali quindi potenzialmente vi potete fare 100.000 dollari al giorno insomma 100.000 dollari in più ogni volta che fate il colpo a caio perico lo so sembra una cavolata ma fidatevi che quando avete tempo ovviamente senza priorità dato che all'inizio non avete i soldi trovate questo metal detector perché è veramente molto molto utile come vedete si fanno soldi veramente veloci e non è l'unico metodo con cui fare soldi su caio perico e adesso ne andremo a parlare vi ripeto sempre alla fine del video e muovendoci nella sezione caio perico potete anche recuperare oltre alla roba col metal detector che vi ripeto varia ogni giorno potete anche recuperare due casse aggiuntive due bottini insomma nascosti che vi danno 25.000 dollari e sono due quindi 50.000 dollari quindi sul caio perico oltre al colpo quando fate la perlustrazione ma vi ripeto ne parleremo dopo vi potete fare 100.000 dollari in più praticamente con questi due piccoli dettagli quindi assolutamente da fare senza considerare che tutte queste cacce al tesoro vi danno oltre che un sacco di soldi un sacco di rp quindi passerete da rango 1 a rango 50 100 in veramente poco tempo e non sto scherzando perché veramente vi danno tanti tanti rp facendo un rapido calcolo senza contare la roba di caio perico con solamente facendo queste cacce al tesoro vi farete circa 1.200.000 1.300.000 dollari quindi non sono assolutamente da buttare e se giocate tanto a gt online diciamo che in meno di una settimana ce la fate tranquillamente ma vi ripeto ci sono anche altri metodi per fare soldi adesso ne andremo a parlare una cosa che vi consiglio di fare è quella di trovare appunto le scorte nascoste di gerald come vedete c'è questa icona qui che cambia ogni 24 ore in questo caso oggi si trovava qui voi andate in questa posizione e come vedete dovete fare dovete cercare queste scorte nascoste se siete su un veicolo il controller non vi vibrerà quindi potete andare a piedi e il controller inizierà a vibrare quando vi avvicinate alla posizione o in alternativa potete andare sulla mappa di prima e vedere tutte quante le possibili posizioni nel raggio insomma di azione e come vedete trovate la cassa e vi da dai praticamente 15 ai 30.000 dollari a me in questo caso ha dato 20.000 dollari quindi non è male la seconda attività che vi consiglio di fare anche questa giornaliera cambia ogni 24 ore è quella dell'assalto ai nascondigli i nascondigli sono indicati così sulla mappa e vi danno anche anche in questo caso bei soldi vi danno circa 30.000 dollari per letteralmente entrare dentro fare fuori 4 appunto persone che ci stanno all'interno ovviamente non sono giocatori reali ma sono personaggi normali se morite come vedete non succede nulla potete rientrare senza problemi e come vedete completate velocemente l'attività e la potete fare ogni 24 ore vi ripeto ovviamente ogni 24 ore reali non ogni 24 ore del gioco quindi per esempio se avviate GTA una volta al giorno vi fate queste due attività quindi quella di Gerald e questa qui del nascondiglio e comunque vi fate quei 50.000 dollari per letteralmente non fare nulla attenzione qui che per appunto completare la missione dovete trovare questo foglietto giallo che come vedete è sempre in bella vista e ci sarà un codice sopra con questo codice insomma andate a metterlo nella cassaforte e una volta che l'avete fatto riceverete il premio dovete solamente scappare quindi veramente molto molto facile questa roba per esempio due anni fa ma anche l'anno scorso non c'era sono tutte cose che Rockstar Games ha inserito per dare più realismo al gioco dato che sono attività free mode ma comunque non danno tanto ma per chi è nuovo ragazzi è veramente tanta roba poi sempre se siete nuovi giocatori è difficile insomma fare altre missioni visto che pagano poco il mio consiglio è quello di non perdere tempo e vedere quali sono le missioni con i bonus soldi doppi o tripli settimanali perché Rockstar ogni giovedì rilascia l'aggiornamento settimanale ovviamente esce il video sul canale alle 11 più o meno esce durante insomma intorno a quel periodo in Italia e come vedete ci sono delle attività indicate con il bollino del per due che danno paga doppia quindi io vi consiglio di fare quello e non fare missioni a caso che magari vi pagano ma perdete veramente tempo almeno in quel caso vi divertite perché è sempre piena di altri giocatori e comunque guadagnate bene perché se vincete guadagnate veramente bene parliamo anche di 200 mila dollari insomma dipende dall'attività quindi vi consiglio di tenere un occhio a quella cosa e una volta che avete fatto i vostri soldi la prima cosa da acquistare ragazzi o almeno quello che vi consiglio io è l'agenzia adesso vi faccio vedere tre business poi scegliete voi quello che preferite ma io vi consiglio di iniziare con l'agenzia perché con l'agenzia perché costa poco e vi permette di fare il colpo di Dr. Dre che vi dà un milione di dollari ogni volta quanto ci mettete a fare questo colpo la prima volta ci potete mettere anche un'ora e mezza quando diventate più bravi dopo che l'avete fatto due o tre volte è sempre lo stesso ci mettete meno di un'ora parliamo anche di 48 minuti insomma se siete veramente bravi quindi comprate l'agenzia che è quella indicata con questo simbolino qui della torre attenzione a non comprare l'ufficio CEO ma comprare appunto l'agenzia la pagate circa due milioni di dollari però se aspettate ragazzi i soldi e gli RP doppi settimanali ogni tanto la scontano quindi la pagate anche meno di un milione di dollari se ci fate caso comunque compratela senza modifiche e come vedete sedendovi al pc potete avviare il contratto VIP che è quello di Dr. Dre ovviamente ogni missione vi paga ma il contratto finale vi dà un milione di dollari quindi voi lo potete ripetere all'infinito e vi dà appunto un milione di dollari poi ci sono anche dei contratti secondari contratti confidenziali che si pagano ma pagano poco però li potete comunque fare quando hanno i soldi e gli RP doppi pagano tanto quindi anche in questo caso l'agenzia è veramente top business con cui cominciare a fare soldi quindi una volta che avete giocato un po' con l'agenzia il secondo business da comprare oppure lo potete comprare anche come primo ma lo sconsiglio come primo visto che l'hanno reso un po' più difficile è quello ragazzi del appunto colpo a Caio Perico comprate il sottomarino come si sblocca dovete andare qui nel music locker parlare con Miguel e poi andando su Warstock potete comprare come vedete il sottomarino cosa altro comprare con il sottomarino io vi consiglio di lasciarlo tutto così e aggiungere magari lo sparro per comodità sembra una cavolata ma ragazzi fidatevi che quando fate le missioni iniziali è veramente facile anche in questo caso è difficile da fare il colpo all'inizio sì è un po' più macchinoso dato che dovete vedere un po' di guide che ho portato sul canale per esempio dove trovare tutti quanti i punti di infiltrazione i punti di fuga eccetera eccetera li dovete trovare tutti quanti una volta e poi il colpo varia ogni volta anche in questo caso c'è una guida dettagliata sui bottini visto che sono differenti fatto sta che era così overpower questo colpo che Rockstar Games l'ha modificato se lo fate da soli lo potete fare una volta ogni circa tre ore quindi fate voi lo potete fare una volta al giorno alla fine se giocate poco a GTA Online comunque una volta ogni tre ore quindi non lo potete fare una volta dietro l'altra fatto sta che ragazzi paga veramente tanto perché uscendo da Caio Perico proprio senza considerare bottini secondari o cose del genere vi fate fuori un milione di dollari proprio facili facili visto che vi ripeto il colpo è semplice senza considerare le casse e la roba del Metal Detector che vi ho detto all'inizio del video che vi permette di fare quei centomila dollari in più veramente easy poi terzo business che vi consiglio di comprare dopo l'agenzia o dopo il Cosatka è quello ragazzi del Acid Lab sarebbe questo qui allora è un laboratorio di acidi per capirci per sbloccarlo dovete fare le missioni di Dax Dax come vedete si avvia da qua però prima di avviare Dax prima di trovarlo qua se non vi esce è perché dovete andare a parlare con Ron che si trova più o meno qui trovate la R gialla sulla mappa insomma parlate prima con Ron e poi potete fare le missioni di Dax come vedete da qua si avviano sono un totale di 5 missioni per sbloccare il laboratorio di acidi però in totale sono 10 perché vi consiglio di farle tramite Dax perché diciamo che diminuite la spesa totale per questo Acid Lab che costa circa 750 mila dollari però visto che le missioni pagano e sono effettivamente le missioni della storia di questo Acid Lab riceverete insomma un compenso e diciamo che ve lo regalano tra virgolette perché alla fine ve lo ripagate con le missioni bene o male come vedete costa poco e anche in questo caso modifiche non ce ne sono questo qui è un business passivo praticamente basta avere le scorte che recuperate tramite insomma mod qua mut scusate parlate con lui recuperate le scorte eccetera eccetera insomma le portate all'Aid Lab e mentre voi giocate a GT Online l'Aid Lab produce in secondo piano e una volta che magari avete finito di giocare potete vendere le scorte dell'Aid Lab anche in questo caso ragazzi mettono molto spesso i soldi doppi sull'Aid Lab e ovviamente voi direte adesso mi serve un veicolo per GT Online allora inizialmente io consigliavo la LG RH8 perché costava a 0 dollari ovviamente Rockstar Games l'ha rimossa quindi quello che vi consiglio di comprare è la Karin Kuruma blindata costa 500 mila anche in questo caso la scontano molto spesso quindi teneteci un occhio sugli aggiornamenti settimanali se non volete spendere tanto quindi come macchina iniziale va bene se ovviamente non avete ancora tutti quanti i business eccetera eccetera e poi appena possibile ragazzi compratevi l'Oppressor MK2 lo so è un veicolo molto odiato ma per il prezzo che costa fidatevi che ne vale la pena perché con l'Oppressor ci fate veramente tutto quindi ragazzi spero che questo video vi sia stato utile vi ripeto la sequenza quale deve essere completatevi le cacce al tesoro perché vi danno quel milione e mezzo praticamente iniziale con cui fare soldi poi ovviamente giocando a GT Online guadagnate anche in altri metodi come ad esempio con le attività con i soldi bonus e poi partite a manetta con i business il mio personale consiglio è quello di iniziare con l'agenzia poi comprarvi il Cosatka e poi la Seed Lab e poi insomma ovviamente arriverà una guida sui migliori business del 2023 quindi quali comprare per primi quali non comprare e insomma comprare proprio per ultimi quando avete finito il gioco poi quali veicoli sono i migliori quali sono da evitare arriverà tutto quanto sul canale in questo 2024 spero che questo video nuovamente vi sia stato utile vi ringrazio veramente tanto per la visione e noi ci vediamo al prossimo video e noi ci vediamo